Bella raga a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Appena terminata Inter-Slavia-Praga, valevole per la prima giornata del suo girone di Champions League, Inter molto deludente, finisce 1-1 con il vantaggio degli ospiti al minuto 63 e pareggio dell'Inter quasi nei minuti di recupero su un gol di Barella. L'Inter del primo tempo che non mi è piaciuta, è partito meglio lo Slavia-Praga, più temerario, più coraggioso. L'Inter è un po' meglio nel secondo tempo, comunque è stato un Inter molto deludente che è riuscito a zuffare il pareggio alla fine. C'è stata una grande occasione nei molti minuti di recupero date con Lukaku, grande parata del portiere, non hanno dato il calcio d'angolo perché si è visto che Lukaku era in fuorigioco. Ripeto, clamoroso flop dell'Inter che pareggia in casa 1-1 con lo Slavia-Praga e non incomincia bene la Champions League per l'Inter. mettete un bel like a questo video. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Un buongiorno, buona serata a tutti e dal vostro grande Capitanapoli. Ci vediamo nel post partita del Napoli-Livriquist, sperando una grande serata da Leone per il nostro grande Napoli. Ciao a tutti. Grazie.